Ehi, stai tranquillo, dì, che ti prende? Ruggisci! Nessun segno di vita generale, i sensori sono sensori, no, i sensori sono qualcosa, no, i sensori sono Jabba de Hatt, no, sono un uomo morto, no, sono Jabba de Hatt, sono... Credevo avessi deciso di restare. Addio, Principes. Abbiamo bisogno di te. Addio, Principes. Ian, non so di cosa parli. Già, proprio. Addio, Principes. Ma andiamo, ma inandiamo. No, non è questo, no, è questo, no, addio, Principes, no, avevi paura che andassi via senza un bacio d'addio? Preferirei baciare un uochi. Allora ti mando un Jabba de Hatt. Posso dirgli una cosa, per favore? Cosa vuoi? Ah, spegniti! Addio, Principes. Ufficiale di guardia! Mi scusi, signore, posso chiederle cosa succede? No. Ruggisci! Vienici uno piotto, cerchiamo la Principes a Leila. Detto fra noi, credo che il signorino Liu sia una Principes a Leila. Tu andrai al Sistema... Miniera. Sistema Tecopa. La sarà istruito da io. Sistema Tecopa. Oda. Il grande... Sistema Tecopa. Maestro J. Sistema Tecopa. Sistema Tecopa. Sistema Tecopa. Sistema Tecopa. Oof! Voglio prove, non trace! Voglio tracce, non prove! Voglio... Ruggi si e si non ruggi Avete trovato qualcosa? Si milord Ci siamo, i ribelli sono lì Milord Ci sono molti generi diversi di insediamenti I ribelli sono lì Faccio rotto per il sistema Ecco Generale Generale Giaccino Addio Principes Anche tu Cosa c'è generale? Milord la flotta è uscita I ribelli sono lì I ribelli ci hanno scopato Lo ha fatto per prenderli di sorpresa È maldestro oltre che maldestro Generale I ribelli sono lì Sì Il canone a Ioni sparerà una serie di colpi per far sì che Il canone a Ioni sparerà una serie di colpi Sistema Decoban Stupendo Le truppe imperiali sono entrate nella base Le truppe imperiali sono entrate nella base Ci stiamo pieni Dai il segnale a votazione Ero tutto E andate sul trasporto Aspettate Le truppe imperiali sono entrate nella base Le truppe imperiali sono entrate nella base Le truppe imperiali sono entrate nella base Andiamo al sistema Decoban Decoban Il motivatore dell'iperguida è stato danneggiato Impossibile 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 Grazie a tutti.